bella a tutti ragazzi e bentornati ad un nostro nuovo unboxing un altro cavolo c'hai sotto le braccia io sono la pami e lui è lo suderone e io sono suder è arrivata una cosa calcolo così non mi sembra tanto è alto a mezzo metro sì perché abbiamo preso in diretta in diretta abbiamo preso qualche giorno fa la nuova tastiera da gaming ringraziando allora per quelli che non lo sapevano di bruciato la sorpresa la tastiera scritto nel titolo lo sanno unboxing una tastiera da gaming non è che si aspettano una bambola a forma di giraffa con i capelli rosa siamo ancora qua la tastiera che ho usato fino adesso ragazzi si chiama trastcada 8 9 0 e come vedete sebbene si è mangiata me la sono mangiata in anni che la utilizzo ragazzi è un elemento validissimo tutto quando ti vedo con quelle forbici in quel modo io ho paura e sganascia così le fo e allora abbiamo deciso di prendere non ho preso qua di mongral per dire secondo me l'ho tagliato il pezzo di primo può vedere l'indirizzo al mondo intero può vedere come si dice vediamo se riesce va che meraviglia chi è che sa quella tastiera dai sotto qua i commenti la tastiera ragazzi ce la facciamo ora miso wow wow da da che tastiera è questo amo strike fratic streak aprila che la voglio vedere un po di asma e adesso apri adesso apri ho preso la fnatic streak ragazzi non la mini streak quella grande con il tastierino numerico perché non dovevi prendere quella piccola fammi capire ho capito ma io mando le transazioni con il tastierino numerico mi ha detto devo prendere quella piccina quella non grande uguale quello un pochettino sì ma quella grande mi serve perché c'è il tastierino numerico che io utilizzo non avesse avuto il tastierino numerico non l'avrei presa mi ricordo che mi ha detto 40 euro 130 e 40 euro l'ho pagata questa scusa dammi la carta hai buttato già la carta va bene un po di asma no la smerda spostiamo questo voglio vedere un po come mi è tutta legge ragazzi la wow aspetta aspetta metti l'acqua che lo sentono fai l'asmo alcuni tasti vorrei vedere come sono quanti questi tasti tasti silent red vediamo la differenza apri un po c'è tutto il cavo della tastiera qua come perché c'è due cavi usb guardate che meraviglia ragazzi ve la metto in in autofocus non la mette a focus ma sì che lo mette a focus ma no è vero non lo mette a focus ho cambiato senti qua senti qua è veramente questi tasti sono paurosi ragazzi adesivi della ma c'è anche poggia nel poggia polso c'è dentro anche il poggia polso spiegazione di che cosa quale interessante la guida scusa se voglio attaccare il che quello almeno ci appoggi tutto questo qua è un poggia polso scusati un attimo perché vorrei capire con il poggia polso come si come il discorso poggia polso mi puoi aiutare fammi vedere come si fa penso che si incastri in questo modo ho capito ho paura di spaccare il poggia polso ok poggia polso montato porca maiala mamma mia ragazzi che tastiera come ti sembra col poggia polso e se ci qua metti qua scomodo per te scomodo per me se forse il poggia polso ma spada c'ha delle diverse regolazioni il poggia polso si regola in tre modi di aspetta non so come si attacca però c'è il poggia polso regolabile c'è il poggia polso regolabile dai mettilo ma non so capace infila ma non so che forse infilato fammi provare si può provare ancora poi scusate per il board e ora è che può essere lungo così un poggia polso si per te si perché usi qua 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 comunque se qua 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 cosa qua 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 perché lui è un qua 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 ma è assolutamente vero questa cosa comunque ragazzi fnatic mini streak molto bella vediamo questa quanto gli dura prima di corrodere i tasti spero di non corrodere i tasti però devo devo dire che tanta roba e al tattoo è veramente tanta roba insomma ragazzi grazie per aver guardato anche questo video unboxing ora vi sparate tre minuti e mezzo della mia foto con la tastiera per arrivare ovviamente a dieci minuti così sarete contenti ovvio scriverete sotto però non va bene ma noi grabber cosa cavolo vuoi noi ci vediamo al prossimo unboxing ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.